Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio spiegarti come puoi calcolare il volume con Archicad. Il miglior sistema per calcolare il volume di una stanza, di un sottotetto oppure di un intero edificio all'interno di Archicad è sicuramente quello di utilizzare lo strumento zona. Le zone in Archicad le puoi considerare come delle unità spaziali del progetto. Solitamente si utilizzano per rappresentare delle stanze di un edificio, delle aree funzionali oppure interi corpi di fabbrica. Per poter calcolare il volume di questa stanza la prima cosa che devo fare sarà quella di andare ad aprire la finestra impostazioni dello strumento zona e andare per prima cosa a impostare l'altezza della zona. Nel mio caso la vado a vincorare al piano in maniera tale da avere un'altezza di tre metri che è il dislivello del piano. Vado a inserire la zona con il metodo geometrico automatico bordo interno. All'interno delle impostazioni dei settaggi della zona andrò per prima cosa a attivare i parametri di dimensione, altezza soffitto e volume zona in maniera tale che verranno visualizzate all'interno del timbro. Per quanto riguarda l'area della zona è già attiva per cui quando andrò a inserire il timbro Archicad andrà a calcolare automaticamente la superficie. Ho la possibilità poi di andare a scegliere quali sono gli altri parametri da attivare o disattivare. Nel mio caso vado a disattivare i pavimenti e il numero di zona. Il timbro che sto utilizzando è il timbro della libreria standard di Archicad 02. All'interno del relativo pannello possa avere un'anteprima dei dati che verranno visualizzati in pianta. Una volta fatte le mie scelte confermo con ok. Visto che ho un sistema di inserimento automatico basterà che mi posiziono all'interno della stanza faccio un primo clic e un secondo clic per inserire il timbro. Archicad è andato automaticamente a calcolare la superficie, mi ha inserito l'altezza che abbiamo impostato e sulla base dell'altezza è andato a calcolare il volume. Se passo alla visualizzazione 3D la zona non viene visualizzata ma se attraverso il menu visualizza elementi della vista 3D, filtra e taglia elementi nel 3D, ho la possibilità di andare a scegliere di visualizzare le zone all'interno della vista 3D. Questo mi permetterà di vedere effettivamente dove viene calcolato il volume. All'interno della stanza ho posizionato un solaio che potrebbe essere un soppalco oppure un ribasso all'interno della stanza che sto utilizzando e ora voglio farti vedere come puoi calcolare il volume effettivo della stanza con la parte ribassata. Vado ad aprire dal menu design le operazioni con elementi solidi, seleziono la zona e clicco su raccogli elementi obiettivo. Vado a selezionare il solaio, sarà il mio operatore, come operazione scelgo sottrazione con estrusione superiore e vado ad eseguire. Torno in pianta, Archicad non ha ancora modificato il volume perché c'è la necessità di aggiornare le zone. Dal menu design vado a richiamare il comando aggiorna zone, clicco su aggiorna tutte le zone e automaticamente Archicad è andato a modificarne il volume. Se dovesse ad esempio decidere che la quota di questo solaio si deve alzare, ritornando in pianta, andando ad aggiornare nuovamente le zone, vedremo che il volume continuerà a variare.